Sogno di viaggiare libera, di poter scegliere tra relax ed avventure travolgenti, di immergermi in un'atmosfera unica e vivere un'esperienza indimenticabile. Sogno un viaggio da condividere con la mia famiglia, con gli amici o con la persona che amerò per sempre. Una vacanza adatta a tutti ma facile da organizzare. Con VirtuFerries posso prenotare quando voglio e come voglio, viaggiare in auto o in moto e se voglio cambiare il mio viaggio e il mio compagno di avventura. Posso farlo in qualsiasi momento. Viaggia tra Malta e la Sicilia con VirtuFerries. Travel made simple.